panca piana con bilanciere o spinte manubri su panca piana eterno dilemma di chi si allena in palestra e cerca una risposta definitiva su un determinato argomento mi dispiace dirvelo ma la risposta definitiva non esiste da una parte abbiamo i fan del power lifting e del power building che vi diranno che la panca piana è essenziale e dall'altra parte abbiamo i puristi del bodybuilding i cari vecchi bro che vi diranno che la panca non serve a nulla per l'ipertrofia e che sono molto meglio i manubri cerchiamo con questo video di dare delle risposte pratiche e proverò a spiegarvi i pro e i contro di entrambi gli esercizi partiamo dalla panca piana con bilanciere esercizio per eccellenza per sviluppare il petto fin dagli albori del bodybuilding come ormai ben sappiamo se ci alleniamo da poco diventare più forti nel tempo è essenziale se vogliamo costruire massa muscolare e quindi la scelta se inserire o meno la panca piana con bilanciere dipende in larga parte dalla nostra anzianità di allenamento se non siamo ancora esperti prima di pensare alla ricerca dell'esercizio magico alle tecniche di intensità prima di pensare ai lavori ai cavi cavetti prima di pensare ai singoli grammi di macronutrienti in più o in meno o agli integratori dobbiamo pensare a diventare più forti sugli principali esercizi attenzione non solo sui fondamentali ma su tutti i multi articolari in generale il vantaggio più grande della panca piana con bilanciere è che ci permette di avere un sovraccarico progressivo nel tempo e di lavorare gradualmente e costantemente con carichi sempre maggiori è vero che se ci alleniamo per obiettivi estetici il carico è un mezzo e non è il fine ma è anche vero che diventare più forti e lavorare anche con alti carichi e basse ripetizioni ha una serie di vantaggi molto importanti primo tra tutti l'attivazione completa di tutti i tipi di fibre muscolari e il potenziamento del sistema nervoso sulla panca piana potendo fare incrementi di carico minimi 1,25 kg per parte permette a chi si allena da poco tempo di raggiungere in relativamente breve tempo con un semplice schema di progressione buoni incrementi di carico i manubri non ci permettono di fare questo perché gli aumenti di carico vanno di due in due e passare ad un peso più pesante spesso può essere un processo difficoltoso facciamo un esempio su un semplice schema di progressione su sei settimane la settimana 1 facciamo un 4 per 6 con 50 kg la settimana 2 un 4 per 5 con 52 e mezzo la settimana 3 un 4 per 4 con 55 la settimana 4 ritorniamo un 4 per 6 però con un po più di carico rispetto alla settimana 1 quindi faremo un 52 e mezzo la settimana 5 faremo un 4 per 5 a 55 e la settimana 6 faremo un 4 per 4 a 57 e mezzo tra la settimana 1 e la 6 l'incremento del carico è stato di un 15 per cento circa e quindi fattibile perché l'incremento è graduale e permette al nostro corpo di adattarsi fare lo stesso schema con i manubri diventa più complesso perché gli incrementi di carico tra una settimana e l'altra sono troppo alti vediamo un esempio se la settimana 1 facciamo un 4 per 6 con 20 kg poi faremo un 4 per 5 con 22 e un 4 per 4 con 24 se seguiamo lo stesso schema che abbiamo fatto sulla panca la settimana 4 faremo un 4 per 6 con 22 poi un 4 per 5 con 24 e poi per finire un 4 per 4 con 26 vediamo che tra la settimana 1 e la settimana 6 l'incremento del carico è stato di un 30 per cento e quindi decisamente meno graduale e meno fattibile la panca piana ci permette poi di staccare il bilanciere comodamente dai supporti a differenza dei manubri che dobbiamo prenderli da terra e portarli in posizione di partenza a carichi alti è una cosa semplice per gli esperti ma lo è molto meno per chi si allena da poco quando parliamo di panca facciamo riferimento ad un setting standard e non un setting troppo estremizzato in stile powerlifting chi fa powerlifting infatti va a ricercare un arco della schiena molto accentuato e una presa larga per ridurre al massimo range movimento con meno range movimento si riesce a caricare di più e dato che il loro fine ultimo e il carico può andare bene se il nostro obiettivo è l'ipertrofia e riduciamo troppo il range movimento con un arco esasperato è una presa troppo larga probabilmente la panca in questo caso ha davvero poco senso un altro vantaggio per chi si allena da poco tempo è che la panca piana ci permette di imparare a muoversi sotto carico e a rendere automatico nel tempo un movimento complesso questo porta ad avere un transfer positivo su tutti gli altri esercizi per il petto più ipertrofici abbiamo parlato dei vantaggi della panca e ora parliamo dello svantaggio principale che è il range movimento parziale quando scendiamo arriverà a un punto in cui il bilanciere tocca il petto e quindi siamo obbligati a fermarci anche se il pettorale non è completamente allungato se si lavora a presa molto larga anche in fase di salita al range movimento parziale è per questo motivo che molti ritengono la panca piana un esercizio non adatto all'ipertrofia prima di proseguire ragazzi vi ricordo che se volete allenarvi con il nostro programma di allenamento via atlet program trovate il link qui in descrizione e qui in alto è un programma di allenamento su base annuale abbiamo un programma sia per uomo che per donna sia per la palestra sia per l'home gym il programma si adatta ai propri livelli di forza grazie a dei test dei massimali che si fanno all'inizio del programma e poi ad ogni quattro mesi inoltre sarà possibile votare la singola seduta e di conseguenza il programma si adatterà passiamo ora la panca piana con manubri lo svantaggio se così possiamo chiamarlo è quello visto prima in riferimento alla capacità di salire con i carichi a causa dell'aumento di chili che va di due in due pensavo una persona che si allena da poco tempo e fa 16 kg di spinte manubri su panca piana passando a 18 kg l'incremento è quasi di un 15 per cento l'altro svantaggio soprattutto quando si usano alti carichi e la poca praticità nel portarsi i manubri da terra fino alla posizione di partenza i vantaggi però sono vari il primo la versione con manubri ci permette a differenza della panca piana di avere un range di movimento più ampio perché possiamo scendere maggiormente il secondo sempre a differenza della panca che prevede un fermo al petto e un fermo alla fine della risalita con i manubri si lavora in tensione continua e questo non può che avere vantaggi se il nostro obiettivo è l'ipertrofia il terzo vantaggio della versione con manubri è che si presta bene sia per lavori medio pesanti dalle 6 alle 10 ripetizioni sia per lavori medio leggeri 10 12 ripetizioni e anche per tecniche di intensità come per esempio lo stripping per concludere meglio la versione con bilanciere o con manubri se vi allenate da pochi anni fatele entrambe perché la panca piana vi permetterà di diventare più forti e i manubri vi daranno un maggiore stimolo ipertrofico quindi partite con la panca e fate delle progressioni di volume ed intensità con alti carichi e basse ripetizioni e poi passate il giorno stesso oppure nella seconda seduta di petto settimanale alle spinte manubri e lavorate nel range che va da 8 12 fatene entrambe anche se siete più esperti e volete comunque continuare a lavorare sulla forza se siete esperti avete raggiunto già buoni livelli di forza o comunque non mi interessa proseguire a fare programmi più incentrati appunto sulla forza potete tranquillamente escludere la panca e lavorare solo con manubri e con macchinari quindi ragazzi come per ogni argomento in ambito allenamento in palestra non esiste mai solamente il bianco e il nero ma ci sono delle sfumature quindi bisogna valutare in base all'esperienza di un soggetto in base a da quanto tempo ci alleniamo e da lì capire se la panca piana può essere interessante mantenerla oppure no come sempre mettete tutto in pratica e ci vediamo al prossimo video a